Siamo in una situazione critica in Italia, mentre noi accogliamo tanti missionari che vengono dall'estero, africani, ma anche di alcuni paesi d'Europa, dall'India, eccetera, siamo diventati molto, diciamo così, ristretti nell'invio. E qui dovrebbe come stabilirsi un equilibrio, perché è giusto accogliere e manca aiutare poi questi che arrivano a inculturarsi, ma non è giusto solo ricevere, è evangelico anche il dare e non c'è nessuna chiesa italiana, per quanto povera possa essere di vocazione, che non sia in grado di poter fornire qualche missionario. Quindi in questo senso dai seminari, dai preti giovani, bisogna veramente cominciare con un incoraggiamento forte in questo senso.